Grassadonia, questo è un pari che alimenta secondo me tanti rimpianti, perché se c'era una squadra che doveva vincere era proprio il pescato. Sì, è così, però purtroppo è andata così. Mi piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi dobbiamo rituffarci in una settimana lavoro. Per noi è sempre fondamentale recuperare le energie, soprattutto fisiche, e ripartire alla grande, con grande determinazione e con grande forza. Buonasera Luigi Di Marzio, il centro, salve. Buonasera. La sensazione che dà adesso la sua squadra, in questa partita l'emblema, forse i due giocatori, non solo uno, che il Pescara sta pian piano rinascendo, sono proprio Capone e Sorensen, che a mio avviso Sorensen è stato, se non il migliore, uno dei migliori in campo, e Capone è in fase di crescita esponenziale. Questa squadra finalmente inizia a crederci, cioè non si disunisce, non si abbatte, sembra un Pescara totalmente diverso. Finalmente, anche se un po' troppo tardi, si è acceso, secondo lei, questo qualcosa, insomma, nella sua squadra. Come dico sempre, per me è sempre stata una squadra accesa, a parte il primo tempo con l'Ascoli e in assoluto la partita di Vicenza, dove non ci siamo presentati, poi la squadra ha sempre avuto la sua fisionomia. È chiaro che, come dicevo la settimana scorsa, le vittorie ti aiutano mentalmente, ti aiutano in autostima, in convinzione. Non è tardi, mancano sei partite, la squadra ci crede, lo sta dimostrando, deve continuare a lavorare, perché mettiamo ancora in tante ore, in tante situazioni, la squadra può migliorare, in molte letture, ma abbiamo bisogno di lavorare per ottimizzare il tutto e quindi, ripeto, da domani ci rituffiamo nel lavoro e assolutamente vi posso garantire che ci crediamo fortemente. Non ho sentito la sua risposta prima, meritava la vittoria Pescara, secondo lei, oggi? La squadra, per quanto creato, meritava la vittoria, però purtroppo siamo sempre penalizzati da queste palle inattive e loro alla fine hanno creato la palla sempre sul calcio d'angolo per chiuderla e quindi il mio rammarico è soprattutto quello, perché manchiamo in alcune letture, manchiamo nella comunicazione, nella vocalizzazione e il particolare fa la differenza. Noi su questo manchiamo. Dobbiamo assolutamente crescere, migliorare, essere attenti, perché anche sul primo gol che abbiamo subito ci sono state delle mancanze gravi, molto gravi, perché dovremmo fare altro e bisogna stare attenti, soprattutto chi subentra, chi magari pensa di non giocare. Oggi ha esordito Fernandes, Vokic è entrato e quindi, come dicevo sempre, il gruppo diventa fondamentale. Oggi è ancora di più che siamo in grado di emergenza. I ragazzi vengono fuori molto di più. Quando parlo di ragazzi parlo prima di tutto di me stesso, quindi fare di più, lavorare. Mister, buon pomeriggio, Costantini TV6. Penso lei si riferisca anche a Fernandes, a quell'intervento falloso proprio sull'ultima azione che poteva compromettere la partita. Però le chiedo, ottime gare con Pisa e con il Monza, ma sempre gol subiti da calci d'angolo. Questa è una di quelle pieghe su cui dovete immagino ancora lavorare perché poi si compromettono partite ben giocate. Poi come sta Galano? Parto da Galano. Galano lo andremo a valutare. Ha subito un'importante distorsione, purtroppo, all'altra caviglia, che era quella sana. Adesso lo valuteremo nei prossimi giorni. Le palle inattive, lo dicevo la settimana scorsa, abbiamo cambiato da zona, siamo passati all'uomo e abbiamo preso anche gol lì contro il Pisa. Abbiamo subito gol oggi, abbiamo rischiato di prendere il secondo gol. Bisogna crescere, ma farlo in maniera veloce perché non abbiamo tempo. E quindi essere cattivi, essere determinati sulle marcature e, ripeto, su quello che c'è da fare. Perché sul primo gol, subito, dovevamo fare altro. E manchiamo, purtroppo, in queste situazioni dove la malizia deve assolutamente arrivare. Non crescere, perché non ce l'abbiamo, purtroppo. Ma deve arrivare, con le buone o con le brutte. Buonasera, mister. Io le faccio, beh, dall'inizio, da quando lei è qui, le ho sempre fatto i complimenti perché per me lei ha portato finalmente una mentalità diversa, che non è dedita solamente a non prenderle, ma finalmente, quantomeno. Tanto, la miglior difesa è l'attacco. E lei chiedo, proprio in virtù di questo e del fatto che lei sottolinea spesso l'importanza del gruppo, quanto è voluto da lei questo lungo ritiro, visto le due trasferte, se è utile soprattutto a creare ancora di più gruppo, cioè stare tutti quanti insieme in una settimana, anche a livello proprio non solo di lavoro suo, tattico e di scelte, ma proprio per amalgamare questi ragazzi da qui alla fine. Sì, noi abbiamo una missione che dobbiamo assolutamente portare a termine perché è nelle nostre corde salvare il Pescara. E quindi più tempo stiamo insieme, più tempo ci dedichiamo al lavoro, più tempo facciamo vita sana dentro e fuori dal campo e più cresce l'obiettivo di arrivare dove dobbiamo arrivare. E questo ce lo siamo posti, è una promessa che ci siamo fatta. E quindi va assolutamente portato a termine il nostro lavoro nella maniera migliore. È importante recuperare, come era importante recuperare dopo la partita di venerdì. Ieri è stato un viaggio molto lungo, ringrazio la società, il presidente, il direttore per averci messo a disposizione la possibilità di rimanere su qui. Quindi sarà una settimana importante, ripeto, soprattutto di lavoro, perché abbiamo bisogno di quello. Ci manca purtroppo il tempo per lavorare, per meccanizzare bene i movimenti, le situazioni, capire le letture. E questa squadra deve continuare a crederci e soprattutto a giocare al calcio perché senza di questo speri, noi non possiamo sperare, noi dobbiamo fare. Mister, buonasera. Due domande velocissime. Allora, la prima sulle scelte, non tanto individualmente, ma sul fatto che lei ha confermato 10 undicesimi della squadra di tre giorni fa. Ha fatto comunque dei ragionamenti sulle tre partite in sette giorni e se sì, se quanto l'ha stupita, l'ha tenuta a tre, è comunque di 10, ripeto, undicesimi che hanno giocato. Ma Macin, tra l'altro, è entrata, quindi di fatto, ha confermato in blocco quasi completa la squadra. Questa è la prima, quindi, sul fatto che l'ha tenuta. La seconda, noi siamo, secondo me, tecnicamente con i meccanismi forse la migliore partita del Pescara, a mio giudizio, con la mutista tecnica e i meccanismi anche nelle trame di gioco. Che è mancato negli ultimi 20 metri per essere ancora più, diciamo, cattivi e quindi portarla a casa questa partita? Perché come fatturato di gioco e di trame, siamo stati, secondo me, da vittoria. È mancato qualcosa negli ultimi 20 metri? Grazie. Ci mancano gli automatismi, ci mancano dei tagli che bisogna capire quando farli, ci mancano le sovrapposizioni, soprattutto degli esterni. Ripeto, ma i numeri non si possono improvvisare. C'è bisogno che si lavori in un certo modo, al di là poi del modulo, come dico sempre, ma sono importanti concetti per capire l'avversario a quello che ti concede, a seconda di come poi viene schierato in campo. Ed è normale che a noi manca tutto questo, mancano le letture. Per quanto riguarda la tenuta, non abbiamo oggi la possibilità di poter pensare sulle tre partite, ma dobbiamo cercare di giocarci la partita come se fosse una finale secca. Quindi sapevamo che Bellanova, che ha stretto i denti, poteva avere problemi. Fino alla fine è rimasto in forza, poi ha stretto i denti. Maestro aveva fatto bene, come tutti quanti gli altri, ma aveva avuto un piccolo problemino. Faccio i complimenti a Machine, perché oggi è quel giocatore che cercavo dall'inizio. Ha acceso il motore, ha acceso soprattutto gli stimoli, le motivazioni. Ed è un giocatore che da qui alla fine deve far farci un salto di qualità. Quindi dispiace non averla vinta, perché alla fine se avessimo avuto maggiore convinzione, maggiore cattiveria, l'episodio dovevamo portarlo dalla nostra parte, perché abbiamo avuto qualche occasione per far male. Però ripeto, guardo il bicchiere mezzo pieno, la classifica non mi piace, è comunque brutta, ma mi lascia ben sperare il carattere dei ragazzi. Mister Popo e Riggio, Brescia è l'anticamera di un trittico fondamentale, ma bisogna arrivare a questo trittico nelle migliori condizioni. Volevo chiederle alla fine di questo ritiro cosa si aspetta di trovare dal punto di vista della squadra, non del gruppo, e poi cosa è cambiato rispetto a quella sciagulata partita di Vicenza? La partita di Vicenza non ci siamo presentati, abbiamo avuto paura a giocare, abbiamo avuto timore nel fare la partita, nell'avere il coraggio di proporre. Abbiamo subito troppo, è una squadra spenta, e quindi, come dicevo la settimana scorsa, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti quello che volevamo dirci, e siamo ripartiti, siamo ripartiti bene, e quindi oggi abbiamo ancora, ripeto, una classifica che non ci piace, ma dobbiamo scalare, e sabato diventerà per noi la partita più importante, come poi lo saranno le altre, ma è chiaro che bisogna vincere. Un'ultima cosa, Mister, volevo chiedere, chiaramente grande rimpianto, anche rabbia si vince le sue parole, perché in occasione del primo gol, lei presumo che abbia detto fino alla noia, la squadra che frattesi in quelle situazioni, taglia deciso sul primo palo, quindi la posso comprendere. Poi le volevo chiedere, quanto sta incidendo la condizione atletica, secondo me, tanto perché adesso la squadra ha un'altra gamba. Tanto, noi lavoriamo su ritmi altissimi, e quindi è normale che all'inizio la squadra ha pagato un po' questo, lavoriamo senza sosta, lavoriamo a ritmi altissimi, e oggi la squadra sta venendo fuori, sta rispondendo. Ripeto, la vittoria di Pisa ci ha dato grande convinzione, grande autostima, ci fa credere in quello che facciamo ancora di più. E sabato abbiamo, ripeto, un'altra partita per noi molto importante. E su Frattesi che taglia in quel modo, lei sicuramente avrà... Quante volte l'ha detto? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Buona Pasquetta a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.